Ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube, oggi vi porto finalmente il tanto atteso video con la squadra che sono riuscito a tirare su dopo lo spacchettamento e anche con una prima versione di tattiche e istruzioni del modulo che sto utilizzando in queste partite, senza spoilerarvelo perché lo andiamo a vedere tra un attimo, quindi con un rapidissimo e agilissimo cambio di scena eccoci qua, potete vedere un po' di suspense, tutte le carte girate, ce le andiamo a vedere una a una potete vedere che il mio difensore centrale ha già preso anche un ross, bene, quindi detto ciò partiamo subito dal portiere che è Allison, devo dire la verità, ci ho fatto 9 partite, mi ha impressionato, l'ho sniperato a 70.000 probabilmente cambieranno anche il price range e in un anno in cui al momento non mi sembrano granché i portieri Allison il suo lo dice, soprattutto in uscita mi sembra veramente bravo, anche per quanto riguarda le parate con i piedi e sui tiri da fuori, mi ci sto trovando veramente veramente bene passando poi al reparto difensivo, terzino destro abbiamo Nelson Semedo che come potete vedere è primo proprietario l'anno scorso Semedo è stato praticamente uno dei miei pupilli, mi è durato tantissimo il base, l'ho usato veramente quasi tutto l'anno non potevo assolutamente ignorarlo quest'anno che ha cambiato squadra, è andato al Wolverhampton quindi in premier dandoci la possibilità di aprire nuovi link nelle nostre squadre veramente tanta roba, ci sente tantissimo la velocità rega, fondamentale quest'anno pulito negli interventi, passaggi filtranti che devo dirvi la verità nonostante quella che è la statistica di 65 bene o male riesce a farli, passaggio corto 76 comunque abbastanza decente e anche in fase difensiva con una lettura difensiva di 77 comunque spesso fa anche delle diagonali in maniera automatica che non fanno mai male siamo adesso a vedere quelli che sono i due difensori centrali ovviamente vicino a Semedo non può mancare quello che è un difensore di premier league e quale difensore se non Virgilio Van Dijk, amici miei tanta roba, pagato 502 rega questo qua quest'anno è veramente veramente devastante veramente devastante in game è gigante, è enorme, è veramente qualcosa di mastodontico la velocità non si sente tantissimo è anche ottimo in fase di impostazione, soprattutto i filtranti li fa di Cristo con la lettura difensiva rega praticamente voi lasciate il pad, lui fa tutto autoblocca, qualsiasi cosa vi giuro in area, se non lo selezionate è come avere un fottutissimo secondo portiere rega è una cosa allucinante pur di salvare la palla dall'entrare in porta lancia una gamba un peto qualsiasi cosa rega qualsiasi cosa per impedire che la palla vada in porta ed è veramente tanta tanta roba vi dico che perde alle volte dei contrasti ma quello purtroppo non dipende da lui ma i contrasti li perdono un po' tutti perché i contrasti secondo me andranno rivisti in qualche patch perché sono un attimino ambigui però Virgilio sicuramente fino ai toti sarà pilastro del 90% delle squadre competitive rega così come a fianco a lui il buon Raffaello Varane ragazzi pagato 209 questo qua anche è fenomenale perché oltre a essere un giocatore alto possente di fisico e veloce abbina anche ottimi piedi come Virgilio per quanto riguarda la fase di impostazione e anche qui grazie all'altura difensiva praticamente vi fa un botto e vi dico un botto di interventi automatici poi è agile e reattivo quando lo muovete quindi mi ci sto trovando veramente veramente bene a completare il reparto difensivo abbiamo Mendy un'altra carta che l'anno scorso ho usato in lungo e in largo l'ho pagato 38k adesso è volato alle stelle rega sapevo infatti perciò l'ho preso subito secondo me 100k sono un po' tanti per una carta 83 ma questo in generale perché lui li vale tutti rega è fortissimo fortissimo per me può fare anche il cc nel rumbo tranquillamente è una scheggia i passaggi sono anche discreti la lettura difensiva anche qui discreta gli permette di fare delle ottime diagonali automatiche è anche una discreta forza buona l'aggressività mi ci sto trovando benissimo anche con Mendy e anche qui Mendy l'anno scorso il base l'ho usato praticamente tutto l'anno quindi oltre poi il foot mass eccetera quindi a completare il pacchetto difensivo quella che per me è una sicurezza ormai da tanto tempo passando al reparto più avanzato abbiamo il buon Manet che ci gioca a 7 quando prenderà la fedeltà l'ho pagato 404 come potete vedere 9 partite un gol e 7 assist perché gioca da esterno largo nel modulo che uso tanta roba velocissimo non lo prendete raga quando lo lanciate sull'esterno è andato se ve lo dovete scordare non lo recuperano più a meno che non hanno un terzino in grado di poter stare dietro l'avete perso è agilissimo finalizza ha un ottimo controllo palla ha anche 4 stelle skill quindi skill è veramente tanta tanta roba ottimo il passaggio corto un po' meno è lungo ma vi devo dire la verità questo qui veramente vi spacca in due le partite soprattutto vi ripeto se gli avversari non hanno giocatori per poterlo contrastare tornando invece al reparto mediano perché qui sto andando un attimino a scaglioni il primo mediano è Paul Pogba un giocatore che quest'anno secondo me potrà dire tanto la sua perché i mediani vanno un po' tutti quanti a passeggio in mezzo al campo e avere Pogba vi fa la differenza perché lui oltre a abbinare fisicità e quantità abbina anche qualità guardate lì passaggi corti e lunghi spettacolari un ottimo tiro quindi questo può fare anche il ciccino e il rombo volendo è veramente tanta roba io che ho sempre stato abituato a difendere in maniera manuale me lo seleziono quindi non ne risento neanche troppo del fatto che magari va un po' a passeggio e mi ci sto trovando veramente bene anche con lui secondo me il prezzo è un po' eccessivo perché comunque un 86 magari scenderà però anche per un discorso di intese sono dovuto andare sul polpo pol andiamo avanti e dal lato opposto a Mané abbiamo Neymario Junior 989.000 il prezzo 9 partite 7 con le 10 assist 5-5 insomma non ha bisogno di presentazioni raga una carta che è veramente illegale come ogni anno stra agile finalizza tiro di potenza tira giro ottimi passaggi incredibile incredibile Neymar è uno di quei tre giocatori che secondo me a inizio game vanno presi e fanno la differenza gli altri due li andremo a vedere a breve il primo non è ancora arrivato il momento perché prima di passare a completare il reparto offensivo abbiamo il completamento del reparto di centrocampo con l'oranblanc raga io questo l'ho preso perché era un affare 789 questo non andrà meno di 900 un milione adesso che uscirà il gioco in vista anche delle prime VL tanta roba in mezzo al campo raga fisicità quantità qualità ottimi passaggi ottima velocità ottime statistiche difensive diciamo che senza dire blasfemia è un cheap 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 gulit ovviamente non potendosi permettere gulit a inizio game molti ripiegano sull'oranblanc ogni anno che è assolutamente valido e anche lui mi ci sto trovando veramente veramente bene in campo lo senti e si sente soprattutto il fatto che abbia dei piedi buoni per innescare quelle che sono le ripartenze letali di quest'anno per quanto riguarda poi uno dei due giocatori di cui parlavo in precedenza è il primo Kylian Mbappé come potete vedere 9 partite 17 gol 6 assist l'ho pagato 1.2 milione tanto è salito ma il meta purtroppo di quest'anno lo rende un giocatore devastante raga questo fa paura fa paura velocità non lo prendete quando è partito non lo prendete più è agilissimo è una cosa veramente spaventosa la sua agilità ottimi le statistiche per quanto riguarda il dribbling in generale davanti alla porta ti finalizza qualsiasi cosa e poi a 4 piedi deboli raga vi giuro pare ne ha 5 è assurdo è atroce non sbaglia niente tira dei missili destro sinistro è assurdo è come giocare con un glitch attualmente sto Mbappé veramente spacca quelle che sono le porte assurdo quindi se ve lo potete permettere io come primo giocatore in assoluto andare a comprare andrei su Mbappé a completare la squadra quello che è stato il mio primo acquisto perché non mi aspettavo che Mbappé fosse così forte ma abbiamo Cristiano fucking Ronaldo un milione e tre e cinquanta al prezzo non le partite otto gol e cinque assist un metro e ottantasette i gol sono tanti perché lo gioco largo anche lui questo qua raga insieme a Mbappé per me è attualmente la carta più forte del gioco Mbappé e Ronaldo sono destinati a dominare fino ai toti fino a quando non usciranno versioni speciali di carte strane raga fanno spavento Ronaldo va avanti di un'ignoranza fatale non lo butti giù fai la finta quella lì di tiro in corsa prende sei metri raga è assurdo assurdo poi è enorme non lo butti giù mai è veramente tanta tanta roba io lo gioco l'artgo ma l'ho provato anche da prima punta può giocare in entrambi i ruoli vi ripeto per la questione di ignoranza che vi porta sulla squadra è veramente tanta tanta roba e per quanto riguarda il sistema di gioco dopo aver visto la squadra che sto utilizzando attualmente è questo qui raga sto giocando con il 4231 al momento le tattiche che sto utilizzando sono le seguenti ovvero equilibrato 5-3 equilibrato 5-5-2-2 questo perché profondità 3 per cercare di bilanciare un po' quella che è la difesa che tende a stare alta quest'anno ma purtroppo non è che ci fai molto perché è proprio scriptata stare più in alto per evitare bunker e poi 5-5 perché comunque trattandosi di un modulo che predispone il gioco sulle fasce ho bisogno di ampiezza e ho bisogno anche di un discreto numero di giocatori in aria per poter liberare poi i miei giocatori al tiro si può provare anche 5-4 lo testerò testerò anche ripiega poi mano a mano che testo tutte queste diverse componenti usciranno tutti i video dedicati per quanto riguarda le istruzioni al momento le classiche terzini resta dietro in attacco mediani resta dietro e copertura al centro a questi 3 davanti al momento non do nulla sono indeciso se dare svaria e rientra in difesa ci penserò di testerò vedrò come va e per quanto riguarda Mbappé invece abbiamo il classicissimo inserisci alle spalle quindi al momento sto stessando il 4-2-3-1 in rivals tutte le partite che ho fatto le ho vinto al momento i feedback sul gioco sono positivi devo cercare di capire bene un po' come difendere in maniera sistematica fatta bene perché la difesa è sempre stato il mio punto di forza e quest'anno però è un po' più difficile difendere in attacco sto cercando di variare il mio gioco integrando delle skill e insomma vediamo anche quest'anno di riuscirci a togliere le nostre soddisfazioni io spero che questo video vi sia piaciuto vi do appuntamento ogni giorno su Twitch solitamente dalle 10 alle 16 o dalle 11 alle 16 fatemi sapere magari quali sono le squadrette che avete fatto fatemi sapere se proverete queste tattiche fatemi sapere se proverete queste istruzioni che modulo state usando voi io vi saluto vi auguro una buona giornata e peace grazie a tutti